ciao ragazzi chi è l'appassionato di giochi di cacca è vero e quindi non potevo trattenermi a non prendere lui il fennicottero sul water ragazzi è strepitoso voi schiacciate la stellina guardate come muove il collo dice mi scappa mi scappa deve andare in bagno e la canzoncina ti resta in testa eccole qui mati ecco le forbici ma prima dobbiamo fare il giro di fennicottero a cui scappa tanto 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 il gioco è molto semplice prima gli diamo veramente da mangiare a prendere la sua boccuccia secondo lo mettiamo a sedere sul water e lui fa la popò e ripete anche quello che diciamo ciao ciao esatto sei tipo un pappagallo ciao ciao qua c'è il water carinissimo ma dov'è lui dov'è lui eccolo qua eccolo come sentire quelle gambe squiscine mi serve mi scappa è troppo puccioso la cacchina come fatta arriva la cacchina per adesso è gialla e arancione sì eccola è sabbiosetta ma a contatto con l'acqua diventerà cacosetta ma si può utilizzare certo lui fa la cacca poi si asciuga poi se la ri uff si se la ri mangia proprio ciao ciao funziona ripete ti piace dormire ti piace dormire ho aperto la cacchina ma sei stato tu a parlare è incredibile è incredibile è incredibile che forza è incredibile ciao è incredibile ciao parla sempre tutte le volte che la lasci accesa c'è sempre le gambine dicevamo le zampette sono squishy era quello che dicevi tu Ale dai chiediamoli se si può spiegare le regole vuoi fare la cacca direi proprio di si prima devi mangiare però esatto dando una veloce ho chiamato le istruzioni perché adesso giochiamo dal vivo riempiamo la tazza del water fino alla linea usiamo acqua pulita giusto si tanto si sporcherà di cacchina dopo aspetta aspetta prima di metterci sulla tazza si ma aspetta deve mangiare prima non metterlo già aspetta rimettiamo la tazza rimettiamo la tazza grazie è tutto grande adesso mettiamo la pappa lì dentro c'era anche un accessorio fatto apposta per dargli la pappa vai butta giù tutto tutta tutta oh la la che fame adesso mettiamo la pappa lì dentro si che poi tanta pappa tanta cacca che fame apri la boccuccia apri la boccuccia ma lui dice e se lo fa da su vai matti dagli da mangiare sentite vedete scende gli scappa gli scappa quando canta la canzoncina deve andare sul water che succede state tutti spiando ragazzi un po di privacy non ti scappava cacca non ti scappava cacca sta spingendo ragazzi si vedo qualcosa la sta facendo guarda guarda veramente eccola si senti come spinge che fatica si la sta facendo hai visto quanta è un po dura è la prima volta che mangia si può anche gentilmente aiutare il cibo a scendere infatti non vedo più niente brava sei stata molto gentile scende ecco ancora possiamo alzarci caro felicotterino si alziamoci ma come andate a toccare ragazzi ma non si può com'è? vi piace? eh si bene adesso per recuperarla basta fare così utilizziamo giusto spiega tutto lei utilizziamo il misurino per il cibo in dotazione che sotto ha il filtro e si apre così proprio per non far uscire ci versiamo sopra l'acqua con anche la cacchina così l'acqua torna nell'acqua e la cacchina rimane in superficie e non perdiamo niente così l'acqua torna nell'acqua e la cacchina rimane in superficie esatto poi me la rimangio tutta no se la rimangia tutta detto così fa un po schifino guarda davidino è già asciutta prova prova col dito veramente ma perché mi inviti a fare queste cose dai davidino dai 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 è vero asciuttissima subito chiudiamo la bocca era un ruttino? si e dopo un po' di digestione go and go sul water go and go go and go mi scappa tutti sotto a guardare ragazzi mmm inizio a vedere qualcosa ah 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 ma che cacchina enorme cosa hai mangiato flamingo ho mangiato flamingo che altre cose buone ma come si fa? con la stellina vale come un repeat ripete l'ultima cosa registrata vai di ciao 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 mi ha dato tutta la pappa tutta la pappa? quindi vuol dire che qua sotto non farmi scendere ah 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 un'invasione mi sa che farmi scendere si direi proprio che di più non ne può fare d'oggi andare in bagno non sarà più la stessa cosa no lei sarà sempre nei nostri pensieri go and go 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 and go go and go go and go e se questo video ragazzi vi è piaciuto mettete un pollicione mettete un pollicione mettete un pollicione e ricordatevi di iscrivervi al canale youtube gbr per non perdere i prossimi video e non mangiate sul water no mentre fate la cacca non è previsto dalle istruzioni ma scaricate l'app gbr per non perdervi le notifiche e sapere quando arriveranno i prossimi video go and go go and go devo andare a scaricare la piccplone gbr guarda eh un tiro vediamo tutto sporco vero? che schifo tiro su si tutto pulito si Nicola ha imparato a maneggiare la cacca grande ciao iscriviti non salire Grazie a tutti.